Un incendio divampato oggi, venerdì 30 marzo, intorno alle 18.30, in un capannone della Yacht Design, in strada del Fornacino a Leini. Diverse squadre dei vigili del fuoco si sono recate prontamente sul posto, con oltre una decina di mezzi, insieme alle ambulanze della Croce Bianca Verpanese e della Croce Verde, ai carabinieri e alle gente di pulizia locale. L'azienda tratta materiale plastico e resina. Pare che il rogo si sia sviluppato da uno stampo, mentre alcuni operai stavano saldando. Il bilancio è di 5 operai intossicati, due sono stati portati all'ospedale di Chivasso e uno a San Giovanni Bosco. Gli altri due hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Le diverse squadre dei vigili del fuoco stanno ancora operando sul posto per spegnere l'incendio. Si attende anche l'arrivo dell'ARPA per le verifiche ambientali. Grazie a tutti. Grazie a tutti